Quello che segue è un brevissimo video che vi illustra come sia possibile copiare degli elementi da un file, per esempio da un progetto più nuovo ad un progetto più vecchio all'interno del quale potreste avere la necessità di caricare delle famiglie di sistema che magari avete creato col tempo Nell'esempio che vedete su schermo ho un vecchio file piano terra denominato piano terra old è un nuovo file progetto all'interno del quale tra i tipi di muri delle famiglie di sistema che sono state caricate troviamo anche un muro nuovo che invece non appartiene all'elecco delle famiglie di sistema dei muri del vecchio progetto Come si fa a copiare gli elementi da un progetto all'altro? Bisogna andare sul menu gestisci e utilizzare la voce denominata trasferisci standard di progetto Con il pulsante trasferisci standard di progetto si può decidere da quale file è possibile effettuare la copiatura per cui deve essere effettuata questa operazione nel file da quale si vuole copiare Vedete qua mi dà la possibilità di scegliere soltanto l'old Quindi io adesso selezionerò questa volta l'old Vado su gestisci e vado di nuovo su trasferisci standard di progetto selezionando di effettuare la copia dal progetto 1 che è l'altro progetto aperto quindi va effettuato nel file che deve ricevere sostanzialmente le nuove impostazioni Dopodiché si clicca su ok e appena la procedura sarà terminata se a questo punto andiamo a visionare i muri presenti all'interno del vecchio progetto del progetto old abbiamo anche il muro nuovo vi faccio vedere un secondo che è possibile trasferire tutte queste categorie all'interno dei standard di progetto o per esempio deselezionare per far prima e copiare per esempio soltanto i materiali o soltanto alcune categorie tra quelle che vedete qui elencate ok Grazie.